Ciao a tutti, sono Veronica, benvenuti sul mio canale. In questo video voglio fare un annuncio. Molti di voi già lo sanno, recentemente ho lanciato un videocorso in italiano sulle tecniche base della Fluid Art. È un videocorso completo che guiderà chiunque voglia approcciarsi al mondo della Fluid Art, dell'acrylic pouring, ma anche chi già comunque pratica ma vuole migliorare le proprie tecniche ed incrementare le proprie conoscenze. È un percorso completo che contiene tantissime nozioni fondamentali per poter approcciarsi, per poter partire alla grande con la Fluid Art senza commettere gli errori più comuni. Contiene un'importantissima e dettagliata guida alla consistenza, dove vengono elencate, mostrate e descritte le consistenze principali che si utilizzano per le varie tecniche, perché la consistenza è una delle parti più importanti. La maggior parte delle volte, se la tecnica non riesce, è proprio la consistenza il problema. Contiene dei tutorial dettagliati su come preparare i colori con la comparazione fra diversi medium, tantissime tecniche dalla Flip Cap fatta in due modi diversi, gli swipe con il silicone, senza silicone, con l'attivatore di celle, le funnel pur, le ring pur, le wandering, ring, straight pur, le tecniche per decidere dove mettere le celle, le chameleon cells, le botanic cells, sono delle celle molto particolari, e ci sono anche dei tutorial molto importanti dove spiego che acqua utilizzare e perché, come conservare il colore per farlo durare di più, come preparare la tela per le colate, come pulire la tela quando è asciutta, e come verniciare, sia con vernice a pennello, sia con vernice spray. Un percorso completo con più di 30 video, un importante PDF scaricabile sulla guida alla quantità, per sapere sempre quanto colore preparare in base alla misura della tela che abbiamo scelto, un gruppo Facebook di supporto dedicato, e l'accesso illimitato al corso. Se sei interessato, ti invito ad andare nella descrizione di questo video dove troverai un link per accedere alla pagina del corso dove troverai tutti i dettagli. Spero che ti unirai alla nostra community.